Buongiorno e bentrovati a mattino 6. Oggi, giovedì 3 settembre, si venera San Papa Gregorio I. Papa Gregorio, detto Papa Gregorio Magno, ovvero il grande, fu il 64esimo vescovo di Roma e Papa della Chiesa Cattolica dal 3 settembre 590 fino alla sua morte. La Chiesa Cattolica lo venera come santo e dottore della Chiesa e come santo viene venerato anche dalle chiese ortodosse. Sebbene il suo pontificato si sia svolto in uno dei periodi più bui della storia italiana, conservò una incrollabile fiducia nella forza del cristianesimo. Una delle anime più luminose del Medioevo europeo, svolse il suo ministero, racchiusi in un corpo minuto e sempre malato, ma dotato di una grandissima forza morale. Dopo aver intrapreso la vita monastica, svolse l'incarico di legato apostolico a Costantinopoli. Eletto poi in questo giorno alla sede romana, sistemò le questioni terrene e come servo dei servi si prese cura di quelle sacre. Si mostrò vero pastore nel governare la Chiesa, nel soccorrere in ogni modo i bisogni, nel favorire la vita monastica, nel consolidare e propagare ovunque la fede. Scrivendo a tal fine celebri libri di morale e di pastorale. Morì il 12 marzo. Ed ora apriamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con le notizie dal mondo e le notizie nazionali. Iniziamo dai siti del Corriere della Sera e della Repubblica, iniziamo con il Corriere, vediamo oggi come apre il Corriere.it. Ecco in apertura, migranti, intesa Italia, Francia, Germania, la UE, riveda le norme sull'asilo. La polizia cieca marchia i migranti, la foto del bimbo che scuote il mondo. Ed ancora grande amnistia, no di Alfano, i condannati devono restare in carcere sino a fine pena. Alla festa dell'unità di Milano si è discusso di questo. Il ministro, dopo l'appello del Papa che aveva auspicato il provvedimento per il giubileo, ci sono delle vittime cui lo Stato deve rispetto. Meloni, il governo mi censura. Sugli immigrati, Palazzo Chigi chiede spiegazioni a Lunar sull'immigrazione. Ecco la foto, stop immigrazione, bavaglio di Stato. La presidente di Fratelli d'Italia scrive a Mattarella, ho ricevuto una lettera di invito a moderare i toni. In pratica un bavaglio da un ufficio governativo. Senato, unioni civili, mediazione del Partito Democratico diventano formazione sociale. No di nuovo centrodestra, disperato, espediente a Palazzo Madama, il via libera in Commissione Giustizia, un emendamento di compromesso, voti favorevoli da DEM e Movimento 5 Stelle, NCD e Lega invece assenuti. La riforma, Giannini, assunti 38 mila prof, metà cattedre, non assegnate la scelta dei prof, scriveteci. Ed ancora a Radio 24, Esposito, Canta, Roma, merda, scoppia il caso, il responsabile dei trasporti inciampa anche sui taxi. Quanti sono? Non lo so, SEL ne chiede le dimissioni. L'inchiesta su Mafia Capitale, Buzzi chiede di nuovo il patteggiamento, richiesti tre anni e nove mesi, oltre alla fine della custodia cautelare. In giugno, respinta prima istanza, ha tre anni e sei mesi. L'intervista, pensioni, Poletti, la riforma non sia per forza, costo zero, il ministro del Lavoro, penalizzazioni più leggere per la flessibilità, lavoro presto un dato unico. Le ipotesi, piloti russi contro l'ISIS in Siria, foto e tracciati, scatenano i blog, segnalati passaggi di munizioni ed equipaggiamento pesante. Al Nusra si diffondono immagini di nuovi veivoli su Libdib. Ed ancora a Torino, la donna caduta dalla nave esce dal coma, non fu suicidio. La signora torinese precipitò nel porto in Norvegia. La polizia indaga per tentato omicidio. Il compagno ha dichiarato tentato di afferrarla. Ed ancora il saluto a Roma, la folla, i funerali di Salini, il costruttore morto nello schianto sulla Colombo. Le foto e le video riportate dal Corriere. Durante i funerali, la presenza di ex ministri politici, imprenditori e star della TV. Roma, la strada killer fra dossi e pericoli, nascosti, aperta un'inchiesta, forse un avvallamento fra le cause dell'incidente, costato la vita al costruttore romano. A Brescia il dramma, lui 41 anni, lei 18 uccisa perché l'aveva lasciato. L'uomo si è poi tolto la vita, lei era una studentessa moldava di 18 anni, corpi trovati in un maneggio abbandonato. Taranto, IVA, indagati, gnudi e bondi nel Mirino. La gestione dei rifiuti, l'attuale commissario e il suo precedessore furono nominati dal governo, coinvolti nell'inchiesta anche gli ultimi due direttori. Il CdA Rai, ok, ha deleghe per la Maggioni, poteri sui contratti, sino a 10 milioni. Voto unanime del Consiglio d'amministrazione sulle potestà concesse al Presidente. Il fisco funerale a Tasi e Imu, Renzi, uè, non ci dica cosa fare, casa, tasse, via, dal 16 dicembre. Ed ora passiamo al sito della Repubblica, vediamo il sito della Repubblica oggi come apre rispetto al Corriere o se apre con la stessa notizia. Ecco, anche la Repubblica porta la notizia dei migranti, il piano UE, ridistribuzione, ridistribuirne. 120 mila, la Germania chiede più controlli al Brennero. La speranza poi di quei fantasmi in attesa al binario 7. E la Repubblica cieca, appunto, le polemiche per i profughi marchiati, così come si può vedere nella foto, e Visal ha detto, questa non è la Shoah ma il male può tornare. FMI rischi da frenata delle economie emergenti, ma in Italia crescita oltre le attese. Il Fondo Monetario prepara il G20 di Ankara. Il caso, ecco la foto che sconvolge il mondo, guardiamo, si dice, anche se fa paura. Giannini, finora 38 mila, docenti assunti, mobilità in norma, si spostano solo 7 mila. Ed ancora su Tasi e Imu, Renzi, come abbiamo già detto, ribatte all'Unione Europea, decidiamo noi che tasse tagliare e Bruxelles replica, giudicheremo dai fatti. Ai dissidenti stop a riforme, blocca ripresa. Tagliare la Tasi, perché Unione Europea, Banca Italia e Corte dei Conti sono contrari? Ed ancora sugli immigrati, l'Unione Europea boccia l'Italia per la tassa sul permesso di soggiorno, troppo alto il costo da 80-200 euro, un ostacolo ai diritti. E quasi mille soccorsi ancora nel canale di Sicilia, profughi portati a Pozzallo e Cagliari. Aprite le chiese ai migranti, ospitalità e piccoli lavori a Milano, la strategia di scola per l'accoglienza. Ed ancora Alfano boccia all'amnistia, condannati in carcere fino a fine pena, dopo l'appello del Papa. Questo ha dichiarato Alfano. Marino a New York incontra De Blasio, se non hai nemici, non hai fatto cosa giusta. Ed ancora l'IS distrugge monumenti in Siria e nasconde vendita di reperti archeologici. Foto satellitari confermano l'abbattimento del Tempio di Bel a Palmira. Gette truppe russe in Siria contro i gruppi ribelli dell'IS a fianco dell'esercito di Assad. Un video riportato dalla Repubblica mostra il blindato di Mosca in azione. Si sente parlare russo. USA, Obama ottiene voto decisivo per far passare al congresso l'intesa sul nucleare iraniano. Ed ancora a Parigi, a fuoco, un palazzo, due bambini tra le otto vittime, fermato a sospetto con problemi psichiatrici. L'intervento subito dei pompieri nell'edificio. Ed ancora a Mafia Capitale, Buzzi chiede patteggiamento a tre anni e nove mesi. E dal Campidoglio scoppia il caso esposito, tifo Juve e Urlavo. Roma, Mer, come abbiamo anche visto sul Corriere, non conosco il bus. 64, SEL chiede le dimissioni. Renzi, mezzo milione di italiani hanno dato due per mille al PD. Il Premier ringrazia su Facebook. Ed ancora nasce l'asse tra sinistra PD e SEL. Basta con i sindaci renziani. Pisapia incontrerà il 19 settembre Cuperlo. Poi ci sarà l'iniziativa con Zingaretti. Ed ora passiamo al quotidiano. Il messaggero, sempre vediamo, restiamo ancora sulle notizie nazionali e dal mondo. Vediamo oggi come apre la prima pagina, con quali notizie. Prendiamo direttamente il messaggero Abruzzo. Ecco la prima pagina. Multe ai paesi che non accolgono, emergenza migranti, il piano europeo, quote obbligatorie, vincolanti per tutti i membri. Roma, Berlino, Parigi, si cambia sul diritto di asilo. La Germania più controlli al Brennero. Ed ancora in centro pagina, riforma della scuola, mancano i profili giusti, assunti solo 9.000 precari, metà cattedre non assegnate. Ed ancora in breve lo scatto che ha sconvolto il mondo, quella photoshop che non vedrete del bimbo morto. Il caso, la polizia cieca marchia i profughi, polemica per l'uso del pennarello. Renzi sfida la UE e decidiamo noi che tasse tagliare. Dichiara dal 16 dicembre, via Tasi e Imu, Bruxelles non ci dica che cosa dobbiamo fare. E su ancora, a Casa Monica, il sit-in antimafia come rattoppo. Entriamo all'interno del messaggero in primo piano, migranti, il piano della UE, quote obbligatorie, multe in denaro per chi non accoglie. Stretta in vista del vertice del 14, vincolante per tutti i paesi membri, asse Roma, Berlino, Parigi, subito una svolta sull'asilo. E la sentenza per messi di soggiorno troppo cari, così la Corte Europea boccia l'Italia. Il documento intesa a tre ora, pacificare la Libia per frenare i flussi degli sbarchi. Al testo, ricordiamo Italo Franco Tedesco, per il vertice dei ministri degli esteri, UE, manca la firma di Londra. Ed ancora profughi, controlli al Brennero, la polizia cieca Li Marchia, la richiesta della Germania al nostro paese. Il Viminale apre, appunto, e non si discute, Schengen dice, bufera, sulle procedure adottate dal Praga. Il pennarello indelebile diventa un caso e possiamo vedere, appunto, nella foto l'azione tanto polemizzata. Alfano, il buio della mente, può tornare, caos a Budapest, a Calais, treni fermi, una notte per non travolgere i migranti. Così, come abbiamo detto prima, stazionati, appunto, sui binari. Quel piccolo naufrago siriano, la foto che ha sconvolto il mondo, lo scatto shock diventa virale, a Londra scoppia un caso politico, ma il messaggero non la pubblica. Ed andiamo ancora avanti. Renzi tira dritto, Bruxelles taccia, dichiara Renzi, cancelleremo le tasse. Sulla casa, geli dalla risposta della Commissione, la legge di stabilità, verrà valutata. Il Premier convinto di non incontrare ostacoli. Il 16 dicembre sarà il funerale di Imu e Tasi, sarà l'ultima volta che gli italiani la pagheranno. E queste sono le dichiarazioni del Premier. Il retroscena, troppe ingerenze degli euro burocrati. Bufera, dopo la gaff della portavoce UE, la responsabile della comunicazione degli affari economici, sarebbe la fonte anonima e critica sul piano italiano. Partecipate, ancora la nuova stretta, ogni provincia avrà un tetto, vincoli numerici su base territoriale per eliminare le municipalizzate inutili. Il Premier annuncia vincoli stringenti anche per amministratori e revisori. Andiamo avanti, sempre in primo piano. Scuola, assunzione per 9.000 precari, metà delle cattedre non sono state assegnate. Il MIUR ha inviato la nomina in ruolo per la fase B della riforma. I profano, dieci giorni per decidere, molti faranno ancora i supplementi. Costretta a trasferirmi, l'enuncio alla famiglia, alla storia di Vanessa Cetta Trapani. Avevo inserito questa provincia al 91esimo posto, dichiara, ho fatto sacrifici per anni e non posso tirarmi indietro. Dalla matematica al sostegno, così si è creato il buco di 7.200 docenti. Tra quelli che hanno inviato la domanda mancavano i profili giusti, per questo sono saltate tante assunzioni. Le cattedre scoperte verranno assegnate ai supplenti fino al 31 agosto 2016, poi verrà completato l'organico. Casa Monica, gelo del premier sul sit-in antimafia con Marino. Stasera la fiaccolata PD davanti alla chiesa di Don Bosco dopo il funerale del boss Rom. Renzi si chiama fuori, per il governo va solo Orlando Marchini. Noi non ci saremo. Due settimane fa, qui la fotonotizia delle sequie show, la carrozza e i petali di rosa. Il caso dal 2 per 1000 al PD, 5,5 milioni nel 2014, solo 200 mila euro. Assel, poco meno di un milione, circa 900 mila italiani hanno scelto di finanziare i partiti. Ed ancora sempre in primo piano, mafia capitale Buzzi chiede di patteggiare. L'ex capo del COP ci riprova, come dimostra il mancato scioglimento del Campidoglio. Qui non operavano le cosche. Ha dichiarato l'istanza di scarcerazione, nessun pericolo di reiterazione. Sono pronto a scontare una pena di 3 anni e 9 mesi. Il verbale, ecco i nomi del libro nero, parla la segretaria del Rasna di Acerrito, al IPM. Ha dichiarato, ho tenuto la contabilità in nero per due anni, avevo capito che erano tangenti. Soldi di grosso taglio a Carminati, Salvatore diede 15 mila euro a Panzironi. Era sicuro di vincere le gare. Ed ancora le riforme. La sinistra PD fa retromarcia. Versani convinto che non ci sia spazio per una formazione autonoma. E la stessa SEL ora vuole tornare a trattare con Renzi. Linea dura del Premier, non mi accontento dei voti sostitutivi. Dei vergniani ha dichiarato, voglio una maggioranza piena, gelo di Forza Italia. E la polemica, unioni civili, primo sì con i voti di Movimento 5 Stelle, Renzi, ok, in due settimane. L'altro là invece del nuovo centrodestra. Il caso, il ticket Maggioni Campo dall'Orto, fa il pieno di deleghe nella CDA Rai. Si allontana l'ipotesi di un canale su Sky. Berlusconi sta trattando con Murdoch. Ed ancora dal mondo. Ninan vince Obama, i voti per blindare l'accordo al Senato. Piegata la resistenza dei repubblicani, raggiunta la quota minima di 34, necessaria a salvare l'intesa sul nucleare. Ed ancora a Roma, tra le cronache si litiga, qui da noi si muore. Rabbia ai funerali della coppia massacrata vicino Catania. Lo Stato ci ha abbandonato, ora vengono a ucciderci a casa. Il vescovo, nessuno si senta innocente, si deve agire di più. Renzi, chi sbaglia è giusto che paghi, fino all'ultimo giorno. E queste sono le immagini su questo articolo e le indagini. Il 18enne profugo ivoriano nega tutto. Questi vestiti li ho trovati nel cassonetto. In chiesa, ancora la dura omelia del prelato, c'è chi si arricchisce sulle tragedie. Ok, all'accoglienza, ma va fatta meglio, ha dichiarato. Sempre nelle cronache, era caduta dalla nave, esce dal coma e accusa. Non volevo uccidermi giallo sul volo in mare di una torinese durante la crociera. Tra i fiori norvergesi, il compagno diceva che si era buttata. Aperta un'inchiesta per tentato omicidio, la donna precipitata da 33 metri, qualcuno aveva sentito delle urla dalla cabina. E il successo, in breve, Israele incorona un italiano e Di Matteo il re di Masterchef. Pagina dedicata all'economia, la prima pagina, il progetto Marchionne prepara la scalata a GM. Dopo l'ultima risposta negativa dei manager del Colosso USA, appare inevitabile un'operazione ostile finalizzata alla fusione. Già avviati i contatti con gli azionisti, i principali investitori, per far nascere un gigante da oltre 15 milioni di veicoli l'anno. E con la prima pagina dedicata all'economia ci fermiamo con la nostra rassegna stampa per il consueto appuntamento con Giovanni De Palma di abruzzometeo.it e abruzzometeo.org per, come sempre, le previsioni del tempo. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Elisa, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Anzitutto tanti auguri di buon compleanno. Grazie Giovanni, grazie, auguri inaspettati, grazie, grazie mille, grazie di cuore. Allora Giovanni, quali saranno le previsioni per la giornata di oggi? Magari un accenno come sempre fai sulla giornata anche di domani. Eh sì Elisa, la situazione meteorologica è in peggioramento, in graduale peggioramento, perché se da un lato nei giorni scorsi siamo stati interessati da un'area di alta pressione di matrice nordafricana che ha favorito tempo stabile, temperature al di sopra delle medie stagionali, ora la situazione sta cambiando. Già c'è stato un cedimento di questa struttura di alta pressione e questa situazione proseguirà anche nei prossimi giorni, perché una perturbazione di origine atlantica spaccerà via quel che resta del promontorio di alta pressione africano e quindi l'alta pressione sarà sostituita dalle correnti atlantiche che a partire dalle prossime ore mi saranno a favorire un graduale aumento dell'instabilità. Al centro nord e probabilmente anche sulla nostra regione, dove se da un lato al mattino spendere il sole su tutto il territorio regionale, nel corso del pomeriggio assisteremo la formazione di addensamenti consistenti sulle zone montuose, con possibilità di rovesci localmente anche a carattere temporalesco in estensione poi verso il settore orientale della nostra regione. Questi fenomeni tenderanno ad attenuarsi in cerata e in nottata, ma attenzione perché da venerdì e da domani assisteremo invece ad un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche che si manifesterà soprattutto nella seconda parte della giornata, ancor più dal tardo pomeriggio sera e nel corso della nottata perché transiterà una perturbazione poi sospinta da masse d'aria più fresca proveniente dall'Europa centro-settentrionale, di conseguenza il tempo peggiorerà sensibilmente, ci sarà spazio inizialmente a delle precipitazioni localmente temporalesche sulla Marsica e nell'Aquilano, poi entro la tarda serata alla nottata questi fenomeni tenderanno ad estendersi anche verso il settore orientale della nostra regione e quindi non si escludono localmente dei temporali di forte intensità. Quindi anche la giornata di sabato poi sarà caratterizzata da diffuse condizioni di instabilità, temperature in sensibile diminuzione e precipitazioni piuttosto consistenti sul settore occidentale ma frequenti anche sul vestante orientale dove non si escludono ancora una volta dei temporali di una certa consistenza. Quindi si tratterà di un fine settimana di insegna di instabilità, poi nella giornata di domenica ci saranno delle schiarite localmente anche anche, però poi nel pomeriggio c'è sempre la possibilità di nuove formazioni temporalesche in particolar modo sul settore centro-settentrale della nostra regione con possibilità di precipitazioni localmente anche piuttosto intense. La tendenza per quel che riguarda le temperature sono previste in diminuzione già nel corso delle prossime ore, soprattutto entro la serata, ma da un lato sarà lieve in queste prossime ore, nel fine settimana la diminuzione sarà decisamente più marcata. Quindi non solo si tornerà in linea con le medie stagionali, ma probabilmente scenderemo anche a qualche grado al di sotto delle medie stagionali, Elisa. Bene, grazie. Grazie Giovanni, ti auguro una buona giornata e soprattutto buon lavoro. Grazie Elisa, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di Giovese. Io ricordo che oltre al sito internet abruzzometeo.it e abruzzometeo.org potete interagire direttamente con Giovanni De Palma attraverso il profilo Facebook di Abruzzometeo, così come possiamo vedere in grafica grazie a Claudio Di Giacomo dalla regia e potete interagire con Giovanni De Palma anche attraverso il profilo Facebook personale. Eccolo qui dove potrete postare commenti, porre domande, insomma essere sempre aggiornati in tempo reale. Giovanni De Palma è sempre al lavoro, quasi sempre online, appunto essere sempre aggiornati sulle condizioni meteorologiche. Ed ora ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria tra poco. Eccoci tornati alla seconda parte di mattino 6, adesso passiamo con la nostra segna stampa alle notizie regionali. Prima pagina del messaggero Abruzzo, dedicato appunto all'Abruzzo che apre con fallimenti. Scacco a mattucci, finanza e polizia scoprono una maxievasione fiscale, 8 arresti tra cui il noto imprenditore. Sequestrati i conti correnti, immobili e anche il tortuga locale simbolo della riviera pescarese. Ed ancora in centro pagina, emigrati da applausi, la favola di Massimiliano De Matteo pescarese vince Masterchef Israele. La storia malata di Sla si lancia con il paracadute, il volo felice di Serena da 10 anni con la sclerosi. Così ho sensibilizzato la gente sui nostri problemi, ha dichiarato. Entriamo all'interno, in primo piano il piano, 12 ospedali e 9 pronto soccorso, Paolucci è un'asla sola. L'assessore aspetta le prime bozze sulla riqualificazione del sistema per anticipare già a settembre il tavolo di monitoraggio del Ministero. Sindacato Will D'Alfonso non scriva da solo il masterplan chiesto da Renzi. Ed ancora, per quanto riguarda la notizia sulla sanità, ancora posti letto gli indici di occupazione, Pescara top, a Tessa in fondo. Politica rapino, ora il PD parla, SEL non si tocca con AC dialogo, ma decide il governatore. Il capogruppo Mariani invita a fatti concreti e silenzio operoso, forse congelato, per ora il rimpasto. Economia, ballone i dati Istat, bisogna crederci, anche se questa risalita è ancora modesta. L'Istituto di Statistica svela che rispetto allo scorso anno ci sono 9 mila occupati in più. Prima pagina dedicata all'Aquila, Morosi, New Tour e MAP. La delibera diventa un caso scotta. L'atto adottato dalla Giunta manca il parere preventivo dei revisori. De Matteis, atto di gravissima sciatteria, dichiarato il credito di Enel ceduto a Banca Sistema. Questa è la transazione. De Santis spegne le polemiche. I dirigenti hanno dato l'ok, scatta il pugno duro sulla riscossione. Insomma, caos all'interno del Consiglio Comunale, quindi al Comune dell'Aquila. Prove di dialogo. Dopo la minaccia di ritorno anticipato alle urne da parte del sindaco Massimo Cialenti, i partiti della maggioranza cercano di ricomporre gli attriti. Il PD invita al senso di responsabilità. Socialisti e Rifondazione chiedono però una verifica programmatica su questa notizia. Vediamo il contributo video realizzato dalla redazione dell'Aquila. Bilancio farlocco al Comune dell'Aquila, che non tiene conto di milioni e milioni di debiti fuori bilancio, ignorati per far tornare i conti e che ora però renderanno inevitabile l'intervento della Corte dei Conti. Ad assicurarlo il Consigliere Comunale dell'Aquila Città Aperta, Giorgio De Matteis, a cui replica però stizzito l'assessore al bilancio Lelio De Santis, che assicura che tutto sotto controllo, quei debiti hanno già copertura con degli accantonamenti. Oltre a 6 milioni in fase di accertamento, catasse di fatture in evase e molte ingiallite dal tempo, tra i debiti, su questo tutti concordano, anche altri 6 milioni di euro delle utenze non pagate dagli sfollati del progetto case. A coprire il debito all'Enel sono state le banche che ora abbattono Cassa al Comune, che dovrà sborsare rate da 250 mila euro al mese per i prossimi anni. Si trattava di un bilancio falso quello che ci è stato apportato. Questa mattina, come era prevedibile, apprendiamo inopinatamente che siamo già a 6 milioni di debiti fuori bilancio, che stranamente prima dell'approvazione del bilancio non erano stati comunicati. E quindi ovviamente devono essere riconosciuti e graveranno sulle tasche degli aquilani. Quindi le grandi lodi che si è sbrodolato addosso il sindaco Cialente cadono in maniera miserabile già questa mattina, a 7-8 giorni all'approvazione del bilancio. Quei debiti fuori bilancio sono coperti già perché il Comune ha accantonato con l'avanzo di amministrazione non i 6 milioni di cui si sta parlando che stanno per essere riconosciuti, ma 33 milioni. E poi c'è il nodo, debiti prodotti anche dai mancati pagamenti delle bollette al progetto Casa. Ma questo è un debito che si è accumulato a seguito dell'amorosità. C'è stato questo contenzioso con tanti cittadini e con i comitati che invia di soluzione. È chiaro che il debito che si è accumulato intorno a 6 milioni va onorato. Il progetto Casa e le case sono patrimonio del Comune. Quindi crisi al Comune, le prove di dialogo. Vediamo adesso il servizio sul, appunto dopo la minaccia del ritorno anticipato alle urne da parte di Cialente, i partiti della maggioranza cercano di ricomporre i attriti. Ascoltiamo. Ritorno anticipato alle urne, il sindaco Massimo Cialente è arrivato a minacciarle, esasperato dai continui conflitti interni alla sua maggioranza. Ma in pochi credono che faccia sul serio, tanto che il Partito Democratico oggi prova a gettare acqua sul fuoco e invita in particolare i socialisti italiani e la rifondazione comunista al senso di responsabilità perché le elezioni anticipate, in uno dei momenti più critici della ricostruzione post-sismica, avrebbero davvero del clamoroso. Ci sono stati dei movimenti, dei contatti, dei colloqui tra i vari partiti, delle riflessioni e è chiaro che rimangono ancora aperti dei nodi. A parte mia, quindi come capogruppo del Partito Democratico, la volontà e l'intenzione è quella appunto di fare chiarezza in merito a quanto successo e cercare di vedere, di verificare se ci sono le condizioni per trovare una quadra e ripartire con più forze di prima perché è chiaro che abbiamo di fronte ancora un anno e mezzo e che dobbiamo affrontare con la massima serenità e convinzione. La rifondazione comunista ha intanto ieri tenuto un'assemblea che ha dettato la linea e posto alla maggioranza, come condizione per annodare la crisi, una verifica programmatica e l'accoglimento di alcuni punti per rifondazioni irrinunciabili. Abbiamo stabilito all'unanimità, perché gli orientamenti all'interno sono contrastanti, di sottoporre al sindaco e alla maggioranza di centrosinistra nei prossimi tavoli che ci saranno in questa settimana e nella prossima settimana una serie di punti programmatici per noi molto importanti. Punti principali? Punti principali? Intanto la questione ambientale che è emersa sul Gran Sasso, ma emerge anche su altre questioni, poi le questioni sociali dietro agli sfratti demorosi del progetto case, per i quali chiediamo un intervento straordinario sul sociale e altre questioni sulla trasparenza e la partecipazione. Il malumore dei socialisti che sostengono con un piede fuori e uno dentro la maggioranza e anche in questo caso si invita il sindaco Massimo Cialente a prendere in considerazione le loro proposte. In questo momento non ci sta bene la mancanza di coinvolgimento da parte del sindaco Cialente e soprattutto su alcune delibere come questa qui delle utenze condominiali e dei progetti case dei MAP, come il non rispetto dei programmi rimandati sul settore dello sport oppure quello relativamente all'uso civico. Ed ancora pagina dedicata all'Aquila, vediamo il taglio basso, la maggioranza, rifondazione, documento sui temi green alla coalizione ed ancora la sentenza condannati di Gregorio e quattro tecnici, contributo alla madre del dirigente per la casa nuova e dopo il sisma il comune dovrà essere risarcito. Torniamo in alto, l'università trasferimento di economia, l'UDU denuncia i tanti disagi e ancora tornando al punto al caos all'interno del comune, aree protette, due referendum per ridurle. Montagna quindi al Bivio, è stato illustrato appunto ieri all'Aquila, sono stati illustrati i due referendum che chiedono di rivedere i confini del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga. Vediamo il servizio. La rimodulazione dei confini del Parco Nazionale Gran Sasso-Monti della Laga nelle aree pedemontane antropizzate del versante aquilano. La riduzione dell'estensione dei 1500 etteri di area di interesse comunitario, i SIC, dove i vincoli ambientali sono massimi, in particolare a Monte Cristo e Fossa di Paganica, dove sono previsti investimenti da 40 milioni di euro per realizzare tre nuove cabinovie per l'ammodernamento degli impianti sciistici di Campo Imperatore. Questo è il contenuto dei due quesiti che in primavera potrebbero essere sottoposti al voto degli aquilani, illustrati oggi dal coordinatore del comitato promotore del referendum Luigi Faccia e dei membri Gianluca Museo e Fasso Tatone. Prossimo passaggio la costituzione del Collegio dei Garanti, che dovranno decidere sull'ammessibilità dei quesiti, poi, se ci sarà l'ok, 90 giorni di tempo per raccogliere 5.000 firme. A quel punto il referendum. Se vinceranno i SIC, il Consiglio Comunale dovrà approvare un atto di indirizzo che impegnerà il Sindaco a muoversi presso Regione, Ministero dell'Ambiente e Comunità Europea. Anche noi siamo ambientalisti, spiega Faccia, ma quei vincoli così stretti in aree antropizzate sono un danno, favoriscono lo spopolamento delle frazioni pedemontane. Per non parlare delle aree SIC a Campo Imperatore, che bloccano ogni tipo di intervento, condannando a morte gli impianti scistici ed un'economia della montagna che crea, nonostante tutto, centinaia di posti di lavoro. Quali sono i quesiti dunque? Sono due. Uno verte su una rimodulazione tecnica del Parco Gran Sasso e della zona speciale di protezione, la 0 APS, e l'altro verte principalmente sui SIC, rimodularli in modo da non comprendere le zone antropizzate, le zone di interesse economico e sociale. L'ente territoriale può proporre agli enti preposti la variazione. È un atto di indirizzo, il referendum dà un atto di indirizzo al Consiglio Comunale che deve esprimersi, il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dal risultato. Ancora andiamo avanti con il messaggero, sempre all'Aquila, Acquasanta, passi avanti, ma poche certezze, vertice tra Comune e l'Aquila Calcio sui lavori e gestione. La riunione, variante sud, sconto tra i sindaci sul progetto, gli appuntamenti, maratona del jazz in centro e partita del cuore al fattori. Una serata di moda in Piazza Duomo sarà condotta dalla Fabiani. Municipio precari, mancato rinnovo dei contratti. Andiamo ancora avanti a Vezzano, il centro trasfusionale sarà pronto entro la primavera. Assemblea con il sindaco di Pangrazio, Silberi e le associazioni. Si teme il calo delle donazioni e uno stop alla sanità marsicana. Gli incidenti, macchinario in fiamme alla azienda Fondri, Sulmona, portici abbandonati, salta il porfido. Sempre a Sulmona, imprenditore accoltellato dalla figlia, dopo l'ennesima discussione in casa, l'uomo ricoverato in ospedale non rischia la vita. La lite è degenerata e la ragazza ha conficcato l'arma da taglio nella spalla del padre. A centro, corsa degli zingari, la sfida a piedi scalzi. Prima pagina dedicata a Pescara, la retata, Mattucci, crolla l'impero dei fallimenti. Guardia di finanza e polizia scoprono una maxi evasione da 6 milioni dietro la bancarotta di una serie di società. Un giro di fatture false avrebbe fatto da schermo alla spartizione di 13 milioni di finanziamenti bancari. Ed ecco qui le immagini della conferenza e su questo articolo ci fermiamo per vedere il contributo video di Francesca Romanatesti. Una vera e propria organizzazione criminale, l'operazione Viribus Unitis, che ha visto insieme polizia e guardia di finanza di Chieti, ha smantellato il gruppo criminale facente capo a Mauro Mattucci. 21 persone denunciate, 3 arrestati oltre a Mattucci, 2 uomini considerati braccio e mente, Giuliano Capurri e Antonio Gentile. 5 persone invece finite agli arresti domiciliari e 13 denunciati a piede libero, oltre all'interdizione di due figure indispensabili ai fini criminali. Si tratta di due commercialisti, Antonio Cristofanelli e Lara Martini. Praticamente loro entravano in società, in imprese già in crisi e li svuotavano dei loro beni, occultandone le scritture contabili e destinandole quindi al fallimento. Poi venivano trasferite tramite anche l'aiuto chiaramente di alcuni commercialisti all'estero, intestando a loro prestanomi. E così anche tramite le emissioni di fatture per operazioni insistenti si sono creati dei crediti di imposta, arrivando a frodare il fisco per circa 6 milioni di euro. Un sistema ben congegnato che ha permesso al Mattucci un'evasione che supera i 6 milioni di euro, con un totale di fatture false che ammontano a 13 milioni di euro. In Italia purtroppo chi froda il fisco non viene ancora considerato come un criminale in tutti i sensi, quanto invece lo è, assolutamente, perché frodare lo Stato significa frodare la collettiva, tutti quanti noi. In questo momento particolare di crisi, secondo me, le sanzioni vigenti andrebbero applicate nella loro integrità. Le persone denunciate dalla Procura della Repubblica di Chieti dovranno rispondere a vario titolo del reato associativo finalizzato alla frode fiscale e bancarotta fraudolenta per distrazione. Inoltre è stato disposto il sequestro preventivo per equivalente fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta evasa, di 43 rapporti bancari e 48 unità immobiliari riconducibili a società e persone indagate, tra le quali la villa di proprietà di Mauro Mattucci. Si parla in alcuni casi di imprenditori che sono stati minacciati, è stata usata anche violenza? C'è stata una capacità intimidatoria sicuramente. Tra le società finite nell'operazione delle forze dell'ordine è anche un noto locale del Pescarese, il Tortuga, che non verrà però chiuso per evitare la perdita dei posti di lavoro. È stato infatti nominato un amministratore controllato. Abbiamo sequestrato decine di conti correnti, sia in testate persone fisiche che a società, decine di immobili sono stati sequestrati, compreso anche un stabilimento del Tortuga, che comprende un stabilimento balneare con un locale di intrattenimento notturno e ristorante connesso. Ancora su Pescara, sempre dal messaggero, tolleranza zero, stazione, giardinetti e ferrotel, vigili in azione, antidegrado, sgomberati gli accampamenti di Senzatetto e Balordi con un doppio intervento della Polizia Municipale. Anche su questo, appunto, il doppio blitz, accessi chiusi, vediamo il contributo video che è di Alfredo Primante. Sporcizia e degrado in pieno centro città, a due passi dalla stazione centrale, da quella dei Pullman e da Corso Umberto. La Polizia Municipale di Pescara, assieme agli operai di Attiva, è intervenuta questa mattina a partire dalle 8 per sgomberare e pulire l'aria dei giardini che costeggiano Corso Vittorio e ai cui margini c'è il muro che ricorda i bombardamenti del 1943 su Pescara. All'interno del giardino c'era di tutto, dai passeggini alle macchine del caffè, dai fornelletti da campo ai sacchi a pelo, dai vestiti agli escrementi, un vero e proprio dormitorio a cielo aperto. Ma quell'aria è pericolosa, soprattutto al cala della sera, ed è questa la lamentela principale di negozianti e residenti della zona, esasperati da una situazione che si trascina da anni. Nel corso del blitz, la Municipale Pescarese ha elevato 8 verbali per accattonaggio e bivacco abusivo, sanzioni da 50 euro, insufficienti a costituire un vero e proprio deterrente che assicuri la fruibilità del parco, soprattutto perché coloro che bivaccano sono senza tetto o extracomunitari. Quello della sicurezza delle aree verdi è e resta un problema molto sentito a Pescara. Spesso in primo piano nelle cronache ci sono i problemi della pineta d'Annunziana, a sud della città, dove tempo fa avevamo documentato aree di sporcizie e degrado, soprattutto nei comparti meno frequentati, da chi si reca nella pineta per passeggiare o per trovare riparo dalla calura estiva. Ora l'area dei giardini della stazione sarà rimessa a disposizione della città, ma il vero tema è come garantire che, effettuata la pulizia, non si torni in breve allo stato di partenza. Ed ora la fotonotizia. Malore alla guida, automobilista a soccorso, tanta paura ma nessuna conseguenza seria. Mare sporco, ordinanza nascosta, Alessandrini affronta Regione e Consiglio Comunale. Notti bollenti, la litigata tra ex sfocia in maxi rissa, botte da orbi sulla riviera nord, fuggi fuggi generale all'arrivo della polizia, episodi sempre più frequenti. Andiamo ancora avanti, la bella storia pescarese trionfa, Masterchef Israele, Massimiliano Di Matteo, 40 anni, ha superato le due rivali con una zuppa di cipolle e zafferano ispirata a Nico Romito. Diario dei giochi, Valanga azzurra sulla spiaggia, debutto con 11 gol alla Tunisia. In breve, Fondazione Aria, videoracconti d'arte a casa d'annunzio ed ancora la manovra, penne, aumenta l'IRPEF e privatizza il metano. Lo sfregio, scritte razziste, sulla Stella Maris sale la tensione per l'intolleranza. Passiamo ancora avanti, ecco la prima pagina dedicata a Chieti, strade da sangue, si schianta contro un furgone, è morto l'imprenditore salvati, l'incidente è intorno alle 13 di ieri alle porte di casa Canditella dove Dario viveva. Lo scooter non ha evitato l'impatto con il mezzo guidato da un ambulante. Il paese in lutto, annullata la festa prevista per oggi di San Gregorio. Il cartellone, cabaret, musica e show tornano gli eventi scalini. L'impegno di sponsor e commercianti hanno garantito la continuità della manifestazione. Il gestore, siamo nel mirino, piante e ombrelloni in acqua, vandali in azione alla piscina. Ed ancora vediamo il ride sui muri, simboli fascisti e scritte anti-Pescara presi di mira. I muri esterni di Palazzo De Maio, in largo del Teatro Vecchio, indaga la polizia. Lanciano, giostre in piazza, l'ira dei residenti, si ripropone la grana del Luna Park al settembre lancianese. Sfrattate le auto del parcheggio, sgomberato il terminal bus. Ogni anno la stessa storia, con promesse mai mantenute, dice chi lamenta disagi, il sindaco, nessuna alternativa. E sempre a Lanciano, maltrattamenti al centro anziani, responsabilità dirette della titolare. La Corte d'Assisi ha depositato le motivazioni della condanna a tre anni. La Procura farà appello. Vediamo nel taglio basso, vasto, sosta a pagamento in centro storico, una petizione popolare per fermarla. L'evento, settimana degli affreschi, festa di colori a Treglio. Andiamo ancora avanti, vediamo Teramo, la pagina dedicata a Teramo. Giunta ballerina, il Comune può attendere l'impasto sparito dall'agenda. Era fondamentale un mese fa, oggi, dichiarazioni blande in maggioranza. Prima il voto avvelenato sul bilancio, poi le relazioni burla chieste agli assessori. Da Fratelli d'Italia al centro per Teramo, dai Gattiani a Di Sabatino Martina, non c'è più fretta tra gli alleati di Forza Italia. La storia, malata di sclerosi, vola con il paracadute, ecco Serena in volo nella foto con l'istruttore. Sei mesi fa il peggioramento, ma Serena ha sfidato la SLA lanciandosi con un istruttore. Ancora vediamo l'appello Brucchi, sospendere il campionato di B. L'incidente, esplode il congelatore, donna uscionata e gravissima. Il problema, cimiteri frazionali, incuria e carenza di manutenzione. Vediamo sulla costa, Giulianova, tragico volo in A14. Si muove la procura, si cerca di chi potrebbe aver accompagnato la ragazza. L'appello del padre, se qualcuno sa qualcosa, ci aiuti. Era a 5 km da casa, troppi da percorrere a piedi, in via di acquisizione le videoriprese nella zona del suicidio. Ed ecco la foto del traffico bloccato lunedì in A14 nel tondo agenti della stradale che appunto sono arrivati per prima alla polizia stradale di Pescara. Al Badriatica, prima le telecamere, poi il centro di registrazione. Tottoreto e polemica sui costi dell'amministrazione. Ed ancora, Roseto, i genitori non vogliono la scuola dei misteri. Sempre a Giulianova, droga nel locale di un commerciante. La finanza trova un piccolo nascondiglio ricavato nel pannello divisorio. Sempre a Giulianova, guerra legale per l'ex Acquaviva. Ed ora, prima di passare allo sport, vediamo il centro, il quotidiano d'Abruzzo, il centro. Vediamo come apre la prima pagina dedicata a Pescara. Colpito l'impero di Mattucci, questo è il titolo. Arrestati padre e figlio, altri sei, fatture false per 13 milioni, sequestrato il Tortuga. E nelle cronache vediamo a Montesilvano scritte razziste sui muri dell'ex colonia Stella Maris, Blizza Pescara, sgomberata l'area di risulta e murato l'ex Ferrotel, scuola, l'alberghiero smembrato in sei sedi, prof furiosi, i biancazzurri, Pescara Super, adesso Oddo, ha 33 calciatori da gestire. Ed ora passiamo alla prima pagina dedicata invece alla provincia di Chieti, Lanciano e Basto. Vediamo come apre la prima pagina del centro con la tragedia appunto dello schianto in moto. Muore a 28 anni, imprenditore di casa Canditella, contro un furgone, oggi funerali. Nelle cronache, 6 milioni per ginecologia e punto nascita per l'ospedale Renzetti in Lanciano. In Chieti ancora vandali nella piscina comunale, incursione allo scalo, in Basto, vittime dei furti su Facebook, nasce il gruppo Solidarietà e Appelli. Ed ancora commercialista nei guai, bancarotta e sigilli al Tortuga, 8 arresti, indagato Teatino. Passiamo alla prima pagina dedicata invece alla provincia di Teramo. Vediamo come apre la prima pagina del centro dedicata a Teramo. Eccoci, Donna Pezzi, dubbi sul suicidio, voleva partire per Londra. Gli inquirenti vagliano tutte le ipotesi. In centropagina il volo della Teramana Serena per attirare l'attenzione sui disabili. Malata di sclerosi multipla si lancia con il paracadute. Ed eccola in centropagina la fotonotizia. Nelle cronache, Brucchi chiede la sospensione del campionato per quanto riguarda il Teramo retrocesso. Sempre in Teramo la piccola Katia lascia l'ospedale e torna a casa. La bimba si era persa nel bosco la settimana scorsa. Ussionata dallo scoppio in casa esplode un congelatore grave. Una donna di Castiglione ed ancora droga nascosta nel negozio denunciato un commerciante in Giulianova. Ed ora vediamo la quarta e ultima provincia. Quella dedicata all'Aquila, Avezzano e Sulmona. Vediamo come apre. Eccoci. Accoltellato dalla figlia e grave Sulmona fu ribondalita in casa. La ragazza ora rischia l'arresto. In centropagina l'Aquila riparte tra applausi e fischi per il nodo stadio. Il calcio di Lega Pro, presentazione in piazza appunto della squadra. Aggredito un vigile urbano, Sulmona e racconto colpito da due giovani con calci e pugni. E nelle crona che ammanchi al condominio c'è l'indagine, sempre in l'Aquila. Scuole di latta per 6.000 alunni aquilani in Avezzano. Isola pedonale tutti contro l'assessore. E lasciamo il centro, passiamo adesso al quotidiano della provincia di Teramo, la città. Vediamo la prima pagina e qualche notizia, appunto le prime pagine che riportano le prime pagine della città. Eccoci nella prima pagina che apre con sospendete la serie B. Il sindaco di Teramo scrive alla FIGC e chiede di bloccare il campionato. In centropagina la magistratura non archivia il caso come semplice suicidio, troppi dubbi in A14. Ed ancora i dirigenti TEM si tagliano lo stipendio. Intanto la di Ranalli chiede lumi sul forno crematorio. Vediamo in breve Castiglione Messerraimondo, esplosione nella cucina padrone di casa uscionata. Turismo, numeri record, stagione pinetese sopra la media. A Giulianova ha piccato il fuoco alla colonia Maltoni. Entriamo all'interno della città. Vediamo le notizie regionali. 8 arresti per bancarotta sequestrata a una discoteca. Associazione delinquere pilotava fallimenti ed evadeva le tasse. Massimiliano Di Matteo, cuoco d'origine rosetane, vince il Masterchef israeliano. Ad ancora cronaca muore a 28 anni in sella al suo scooter il giovane Dario Salvati. Politica, rimpasto, stoppa, le parole servono atti concreti. Parliamo sempre del Comune dell'Aquila. Adesso andiamo ancora avanti. Opere pubbliche. Ruzzo, il nuovo acquedotto va in appalto. Vertice in regione. Sui tempi burocratici la priorità è non perdere i fondi garantiti dal decreto sblocca Italia. Tortoreto, oggi l'apertura delle buste per la gara d'appalto del nuovo depuratore del Salinello. Le offerte sono sei. Ancora avanti, Teramo Calcio. Ecco, Brucchi chiede di bloccare i campionati di B e Lega Pro. La lettera aperta del primo cittadino. In foto, l'eventuale presunto coinvolgimento di Campitelli non può condannare squadra, città e teramani. Frecciate all'Ascoli, il Teramo ha vinto sul campo con gol e risultati. Le squadre rivali invece sono state più brave con le carte bollate. Vediamo ancora. Andiamo avanti. Ecco altre scritte sui muri del Comune in via della Banca contro politica e società sportiva dopo la decisione della FIGICI, l'Infopoint del Teramo e le scritte sui muri nella sede sociale. Vediamo ancora avanti. Entriamo in Teramo. La Teama chiede chiarezza sul forno crematorio. Chi dovrà realizzarlo? Secondo contratto è la società. Secondo il nuovo bando sarà invece il socio privato. E infine per quanto riguarda la città, assistenza, i disabili pretendono una soluzione. Ora nessuna comunicazione sul riconteggio delle ore. Pronte nuove iniziative di protesta da parte delle famiglie. Scuola, i noni vigili non accettano i nuovi tagli. Servizio saltato per ora almeno su Teramo. Ed ora torniamo al messaggero per vedere la pagina sportiva. Abruzzo Sport, Pescara e Lanciano ok. Così apre la pagina dedicata allo sport. Gli operatori valutano il mercato delle due abruzzesi. Bucchi, Campagnaro valore aggiunto. Frentani bravissimi. E sullo sport ci fermiamo con il contributo video realizzato da Paolo Renzetti appunto sul Pescara Calcio. Pochi giorni, solo quattro per la precisione. E poi la lunga attesa sarà finalmente terminata con la parola che passerà al campo. Domenica 6 settembre alle 15 il Pescara Targato Massimo Oddo farà il suo attuese sordio in campionato nell'insidiosa trasferta dell'Ardenza di Livorno. Il primo fra i tanti ostacoli non da poco di questo avvio di campionato che almeno sulla carta si presenta tutt'altro che agevole. Allarmando picchi le insidie per il Delfino non saranno legate solo al valore dell'avversario che nelle ultime ore di mercato si è rinforzato anche con gli arrivi dell'ex Pasquato di Cazzola e Bunino ma anche dalle numerosissime defezioni con cui dovrà fare i conti il tecnico Biancazzurro. Mister Oddo dovrà infatti rinunciare sicuramente ai nuovi arrivati Verra e Mandragora convocati dal CT di Biagio per la nuova Under 21, agli Azzurrini, Vitturini e Cappelluzzo chiamati rispettivamente in Under 19 e Under 20, agli squalificati Mignanelli, Lapadula e Torrera e agli infortunati Valoti e Memusciai. L'ex veronese in verità ha qualche chance per recuperare ma al massimo potrebbe trovare posto in panchina. E all'albanese è legato invece il giallo delle ultime ore. Memusciai infatti infortunato di lungo corso, addirittura le voci lo davano prossimo ad un'operazione in artroscopia alla caviglia sinistra per risolvere un problema con cui il centrocampista albanese convive da mesi e che comporterebbe uno stop di due mesi. Ma Memusciai risultava ieri nella lista dei convocati di ramata dal CT albanese Gianni De Biasi per le prossime gare valide per le qualificazioni agli europei. Ad ogni modo Mister Oddo dovrà fare di necessità virtù e a questo punto nell'11 anti Livorno sono quasi certi l'avanzamento di Zuparic a centrocampo e gli esordi sempre in mediana del nuovo acquisto Benali e del giovane Paolucci. In dubbio anche la presenza dell'ultimo arrivato Campagnaro che si presenterà in Abruzzo nelle prossime ore per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Intanto domani alle 11 presso l'Hotel Carlton a Pescara ci sarà la presentazione del Memorial Pietro Sibilia. Saranno presenti fra gli altri il patron del Pescara Daniele Sebastiani e l'ex vicepresidente Antonio Oliveri. E dalla seconda pagina dedicata allo sport, calcio di Lega Pro, De Sosa, sarà un anno difficile ma l'Aquila non ha paura ed ancora in centropagina Scipioni resto per riprovarci. Molti sono andati via ma la vecchia guardia del Teramo vuol tentare di replicare la scalata alla B, Bivarini ci pensa. Il collegio di garanzia non consente al club bianco-rosso di discutere ricorso già oggi insieme al Seregno. E con la pagina dedicata allo sport termina la nostra rassegna stampa così come l'appuntamento con Mattino 6. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.